La birra di oggi è una birra italiana, stiamo parlando della Bliss del birrificio Pavese. Vediamo subito la scheda tecnica. Allora, questa Bliss è prodotta da birrificio Pavese, che però recentemente è stato acquistato da Opera, quindi esce ancora come birrificio Pavese, ma comunque fa parte di quest'altro birrificio italiano che è appunto Opera. Ci troviamo appunto come il nome suggerisce a Pavia in Italia. Lo stile di questa birra è una Golden Ale, il grado alcolico sono 4,8 gradi. Il prezzo, questa bottiglia da mezzo litro, l'ho acquistata al supermercato, se non erro, ha intorno ai 4 euro. Il bicchiere consigliato direi un tulipano, visto che è una Golden Ale, anche se non è specificato lo stile sulla bottiglia, ma ho letto online per cercare qualche informazione. E si tratta di un primo assaggio. Allora, la bottiglia di per sé si presenta in questo formato un po' allungato, è una bottiglia da mezzo litro. Esiste anche in un formato più piccolo, con bottiglie un po' più basse e più tozze. Il tappo superiore è grigio, senza alcuna decorazione. Questa etichetta riporta il logo birrificio pavese, che è questo, che credo sia un cigno, comunque è un origami con questo uccello. La scritta birrificio pavese, Bliss Summer Ale. Summer Ale che di per sé non è indicativo di uno stile particolare, se non una birra ad alta fermentazione, summer, quindi estiva. Sulle indicazioni viene detto solo che è una birra ad alta fermentazione non pastorizzata, e infatti si vede già un buon fondo. e leggera, pulita e gradevolmente amara. Consiglia già anche alcuni abbinamenti, come frutti di mare, formaggi freschi e salumi giovani. È interessante, consiglia anche il bicchiere consigliato, indica una pinta in questo caso, e indica, va bene, la temperatura di servizio. E c'è scritto di conservare la bottiglia in verticale, proprio perché poi è scritto forma sedimento. Per quanto riguarda questo altro aspetto, questo altro lato, acqua malto d'orzo, frumento, malto d'orzo, malto di frumento, lupolo lievito. Niente, non dà indicazioni particolari. Da qualche parte avevo letto che utilizzavo lupoli tedeschi, ma vado un po' a memoria. Perché è un primo assaggio, non ho mai assaggiato questa birra, quindi direi che facciamo un assaggio assieme. Ho scelto un tecu per fare questo assaggio, proprio perché appunto è il primo assaggio, quindi prendiamo l'amato e odiato tecu. Sto pensando ora che se il bicchiere è consigliato qui una pinta, potrebbe non essere una golden ale. Infatti non ho trovato informazioni sullo stile, se non forse su qualche commento su Rate Beer, che la indicava come golden ale. Potrebbe essere forse una saisono, qualcosa di questo tipo, o non essere uno stile preciso, quindi niente, vediamo con il tecu come si comporta e poi si può decidere in base a quello che sentiamo quale potrebbe essere il bicchiere più adatto per questa birra. Allora, ne tengo un po' qua dentro. Sì, ho già mosso un po' il fondo che ha cominciato a sollevarsi leggermente, però vabbè questa la bevrò magari più tardi. Per quanto riguarda l'aspetto visivo, c'è una bella schiuma, abbastanza fine e compatta, di un colore bianco molto pulito. La birra è un, direi, giallo dallo paglierino non particolarmente acceso e abbastanza velata come birra. Non è molto limpida, perché non è filtrata, non è pastorizzata, perché lo mostra un po' anche. Quindi magari con un servizio migliore potremmo riuscire a ottenere una limpidezza leggermente maggiore. Detto già, vediamo il naso, quindi cos'è questa birra. Allora, anche in questo caso bisognerebbe precisare ci sono tutti problemi, come sempre, legati alla distribuzione e alla grande distribuzione. Cioè, questa è una birra che ho acquistato in un supermercato. Come sarà stata conservata questa birra? Come sarà stata trattata? Allora, non c'è la data di imbottigliamento, c'è la data di scadenza. Scade fra oltre un anno, quasi un anno e mezzo. Di conseguenza siamo abbastanza sicuri che probabilmente è stata imbottigliata poco fa. Peraltro sto registrando da Pavia l'ho acquistata in un supermercato pavese che si trova una rotonda dopo la zona di produzione di questa birra. Quindi posso sperare che la birra sia stata trattata bene e spero non abbia fatto troppa strada. A meno che non venga però dalla sede di opera che comunque è lì in zona, quindi spero non abbia fatto tutta questa strada. Detto ciò, vediamo un po', facciamo un'analisi in questo caso. Poi, volendo, una bella cosa che si può fare è andare a comprare una direttamente in birrificio cosa che peraltro ho già fatto con altre birre di opera e assaggiarle senza appunto passare dalla grande distribuzione. Vediamo quindi al naso com'è. Allora, c'è una parte non è molto intensa come aromi ma c'è sicuramente una parte di aroma che va verso, direi, il floreale. Sì, principalmente le due grosse famiglie secondo me qui sono floreale e agrumi non particolarmente intensi ma si sente soprattutto arriva subito il floreale e poi con un pochino di attenzione questo floreale lascia spazio e poi ha una parte agrumata. Sì, principalmente sono questi. Vediamo in bocca. Molto interessante in bocca molto tedesca molto poco belga siamo molto più in Germania che in Belgio con questa birra in effetti sì, c'erano i lupoli tedeschi o così mi pareva di ricordare. Allora, per quanto riguarda un'apertura abbastanza delicata abbastanza boccata con questo malto tutto sommato leggero subito, subito spazzato via per così dire da tutto questo piacevolissimo amaricante ma è un amaricante che va molto verso il floreale e l'erbaceo è persistente questo amaro resta in bocca ed è un amaro che fa tanto pensare in effetti alle lager o comunque tutta quella sfera di birre che utilizzano appunto lupoli tedeschi cechi, boemi insomma di quella zona non so che lupoli ci siano all'interno non mi sorprenderebbe trovarci un Saz un Erzbrucker insomma quei lupoli tipici di quelle zone è però una birra ad alta fermentazione non è una lager questo siamo sicuri ed è anche scritto infatti sulla birra stessa direi quindi una birra molto delicata adatta sicuramente per il periodo estivo come il nome Summer Rail ricorda anche se siamo ormai alla fine dell'estate devo dire appunto molto fresca abbastanza dissettante per questo amaro è un corpo abbastanza watery quindi abbastanza acquoso ma appunto non è sicuramente un difetto di questa birra anzi la rende perfetta per questa tipologia di birre molto beverine una discreta frizzantezza non esagerata comunque devo dire appunto una birra sì sicuramente molto interessante sarebbe sì sicuramente utile confrontarla con una birra che non è passata dalla grande distribuzione sarei curioso adesso di assaggiare anche altre birre di birrificio pavese perché appunto è un nome che sento da parecchio tempo ma che stranamente per diverse coincidenze nonostante la prossimità geografica non ho mai avuto piacere di approfondire detto ciò questo appunto era la bliss Scal è un nome che